a russuaia guarda che fila ragazzi mamma mia che fila incredible ahi fa male viva la figa col pelo nero 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 viva la figa mi devi spiegare una cosa ma tutta questa energia le tattue dove la trovi e dove la trovo? che su alle 2 della notte ancora sta in ballo sei stato in discoteca a farlozzone e ancora c'è stata l'italità che voi siete più sporco che il bastone del collage incredibble guarda che mi chiudono il cancello e alle 2 ancora sta in discoteca stava davanti è bellino il peluccio avanti è bellino il peluccio vale incredibile raga io sono super contento anche di condividere queste cose con voi perché sono uniche grazie 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 grazie